Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi delle MPUH7, delle cuffie bluetooth economiche. Attualmente hanno un costo di 22 euro circa e sono naturalmente acquistabili su Amazon. Prima di aprire la confezione per vedere cosa si cela al suo interno, giriamo la scatola e vediamo le specifiche tecniche. Abbiamo una batteria di 420 mAh, una carica di 5V, 3 ore richieste per la carica e una distanza di copertura di 10 m. Sono ovviamente bluetooth, quindi wireless senza filo e sono utilizzabili con smartphone, tablet, Android e iOS, smart TV e tutti quei dispositivi che naturalmente dispongono della connettività bluetooth. Detto questo apriamo la confezione. Allora abbiamo il sacchetto per portare sempre con sé le cuffie in velluto, molto bello ragazzi, anche spazioso, quindi potete mettere le cuffie e chiuderle e portarle sempre con voi. Non poteva di certo mancare. Poi abbiamo le avvertenze, la cavetteria, quindi il jack e USB, quindi se volete utilizzare le cuffie con il jack e se volete ricaricarle ovviamente. Il manuale di istruzioni anche se è molto ridotto alla fine, tanto per quello che serve e ovviamente le nostre cuffie che sono in una busta di plastica tipo. Ok, ecco le nostre cuffie. Allora come potete vedere fin da subito sono abbastanza piccoline, sono molto ridotte. Io ho un testone e sinceramente dopo averle provate un po', sì sono comode, assolutamente, ma non estremamente comode per la mia testa, perché sono davvero piccole. Ok, sì, si possono regolare e si possono regolare molto generosamente come potete vedere, però insomma le orecchie vengono coperte, ma se avete il testone o magari le orecchie grandi, insomma non sono il massimo. Altrimenti sono davvero comode. Come vedete i driver sono gommosi, molto morbidi, quindi comode se avete insomma una testa nella media, piccolina, insomma. Io le ho trovate comode, non estremamente comode ovviamente, ma comode. Le cuffie presentano, come potete vedere, dei pulsanti sulla cuffia destra, CR, che permettono di aumentare e diminuire il volume, basterà tenere premuto per un po', rispondere alle chiamate, vedete, oppure attivare o meno la sincronizzazione Bluetooth. Inoltre c'è ovviamente l'ingresso per il cavetto jack e per l'USB per ricaricarle. Le cuffie sono molto leggere, davvero molto leggere ragazzi, sembrerà non indossarle perché sono leggerissime. Comode anche per l'archetto, anche se personalmente avrei, diciamo, reso l'archetto superiore un po' più spesso, un po' più gommoso, invece è ridotto all'essenziale. Sono comode, diciamo, abbastanza, sono economiche, ma vi posso garantire che la qualità del suono è davvero ottima, cioè anche se aumentate al massimo l'audio spacca di brutto, naturalmente non ci sono alti e bassi, ma veramente si sentono molto bene, non gracchiano. Le ho provate con la Smart TV attraverso il ricevitore e trasmettitore Bluetooth e vi posso assicurare che sono comode, l'audio si sente molto bene, quindi se siete alla ricerca di un paio di cuffie Bluetooth da battaglia, come si suol dire, allora questo prodotto potrebbe fare al caso vostro.